Grazie a tutti. Ho deciso di impegnarmi nel programma e portare qui la mia esperienza personale, pensando possa essere uno spunto sul quale lavorare nel difficile percorso verso la piena applicazione dei diritti costituzionalmente garantiti. Sono qui per lavorare alla creazione degli strumenti necessari per poter agire. Opero da anni in difesa dei beni comuni, dell'ambiente, della fauna selvatica, opponendomi alla devastazione di boschi, pinete, spiagge, aree protette a livello nazionale e internazionale, parliamo dei siti Natura 2000, aree umide sotto tutela Ramsar, e alla conseguente distruzione di specie in via di estinzione che lì vivono e si riproducono, tutelati penalmente. Per questo, incredibilmente, vengo fatto oggetto di continue minacce, persino di un tentativo d'omicidio. Sono stata, infine, denunciata per procurata allarme e interruzione di pubblico servizio, semplicemente perché avevo richiesto agli agenti istituzionalmente preposti di intervenire ed accertare e sanzionare vari comportamenti illeciti. Le mie ripetute richieste di intervento, a difesa di beni ambientali, beni comuni preziosi, unici e tutelati, sono state fatte passare per un reato. Si è tentato di capovolgere la realtà con indagini, svolte per circa un anno e mezzo, soltanto dallo stesso agente di polizia giudiziaria che ha presentato la denuncia, e trasformarle, come sono state di fatto, in un unico disegno di criminoso con l'aggravante persino degli abietti e futili motivi. Tutto ciò senza che io avessi avuto alcuna possibilità di far collollare l'impianto accusatorio con la semplice dichiarazione ben documentata che, quanto riportato nella denuncia, non corrisponde assolutamente al vero. Ora, se per più di un anno un cittadino non è nemmeno al corrente del fatto che qualcuno sta operando per costruire nei suoi confronti una falsa accusa, e se le indagini vengono portate avanti proprio di chi ha presentato la denuncia, forse per scoraggiare fastidiose interferenze in interventi anti-ecologici più che discutibili, ogni attività investigativa sarà volta solamente a rinforzare quanto dichiarato, trascurando completamente molti fatti e elementi provatori a favore dell'indagato ignaro di esserlo. Come può dirsi allora non venga di fatto pesantemente violato quanto previsto dall'articolo 24,2? La difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Per questo oggi ho una domanda da rivolgere a tutti voi. Come può allora un cittadino tutelare il patrimonio comune che l'azione irresponsabile di privati, amministratori e politici sta oggi distruggendo in modo irreversibile, sta alterando il paesaggio italiano, sta desertificando, inquinando e creando persino gravissimi problemi idrogeologici con perdite di vite umane, all'unico scopo di acquisire profitto, magari anche sfruttando con ogni tipo, con ogni mezzo, i tipi di finanziamenti pubblici previsti e quindi il denaro di tutti i cittadini. L'articolo 24 della Costituzione sascisce anche che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi. Così non è, perché il Consiglio di Stato ha detto che difendere bene i comuni non è un diritto dei cittadini. Ho la sentenza. Eppure questo ricorso era stato presentato per contrastare gli assurdi tagli e per mandare tutte le nostre pinete in centrali e a biomasse inceneritori in diversi regioni, in pianti che appartengono a privati e multinazionali. Grazie Marina. Sì, chiedo chi può difendere bene i comuni, come può farlo senza rischiare di essere incriminato. Grazie professor Maddalena, grazie a tutti.